Oh Wanyu, a proposito, ma voi per Natale alle vostre moglie che cosa avete deciso di regalare? Sì, io ci ho già pensato, ho pensato di regalarle una collana di perle e una sciaccia. Ah, una collana di perle e una sciaccia? Eh sì, perché se non dovesse gradire la collana di perle, può mettere una sciaccia, hai capito? Hai ragione, così. E tu, Giuseppe, che fa? Che pensate? Ma guarda, io ho pensato di prenderle un anello d'oro e un bel paio di guanti. Un anello d'oro e un bel paio di guanti? Così, se in caso a me non ti piace l'anello, si mette i guanti, capito? Eh sì, almeno un regalo lo mette, diciamo. Piero, e tu invece che cosa vuoi regalare? Io ci ho pensato, in effetti. Io le vorrei regalare una bella pelliccia e un rotolo di cartigenico. Scusi, perché il rotolo di cartigenico? Perché? Perché se non le dove spiacere la pelliccia, guarda la caca! Ma devi sei mai, guarda la caca, guarda la caca e unoughtito! Apa una gallora di guanti?